ciao a tutti e benvenuti a questa seconda mini free guitar lesson oggi parleremo di scale pentatoniche perché la scala pentatonica è la scala più comune e semplice che si può fare su una chitarra elettrica la maggior parte di noi conosce questa scala in questa posizione e con questa direggiatura il mio consiglio è quello di suonare questa scala con una direggiatura tale che vi permetterà di poterla subito utilizzare per le frasi quindi cercare di non utilizzare il miglioro per distanze di toni e mezzi così distanze di un tono e mezzo magari soltanto qui sui passi così quindi tutte e cinque le scale partendo da a quindi in pratica è inutile viteggiare una scala in una maniera e poi usarla in un'altra pensateci sempre quando studiate qualcosa di tecnica deve essere sempre utile poi in pratica quindi tutti quelli che già diteggiano questa scala con il mignolo avranno grande difficoltà per fare il bending velocemente ok ciao alla prossima grazie a tutti